Il cinema lecchese è sbarcato a Las Vegas. Si è tenuta la prima delle tre serate organizzate dalla Centro Culturale Casa Italiana con il patrocinio del Comune di Lecco, dal titolo Lecco e Movie Landscape, una rassegna che si pone l'obiettivo di promuovere presso il pubblico americano il territorio, i nuovi registi e le loro produzioni, realizzata in collaborazione con la Lecco Film Commission, grazie all'iniziativa della sua vicepresidente Marta Soligo, docente di sociologia del turismo presso l'Università del Nevada. A prendervi parte i cineasti che hanno già partecipato alla rassegna Lecco Cine in Città. La prima proiezione si è tenuta nella West Charleston Library, protagonista la pellicola V di Walter, diretta da Paola Nessi, un racconto della vita del celebre esploratore Walter Bonatti. Il secondo appuntamento, il 10 dicembre alle 18, sarà una prima mondiale. Casa Italiana proietterà, con una presentazione speciale del regista Marco Ongania, il suo cortometraggio Tomato Flower, un orto di pomodori e un segreto sepolto sottoterra. La proiezione sarà seguita dalla film dello stesso regista e di Sabrina Bonaiti, Il cielo in me, che descrive la vita della poetessa Antonia Pozzi e la sua passione per le montagne che circondano Lecco e il suo lago, in un autentico viaggio tra natura, amore e poesia. L'ultimo incontro sarà dedicato a tre giovani cineasti lecchesi. Il 13 gennaio alle 18, presso la Windmill Library, il pubblico potrà apprezzare i cortometraggi Audition di Marco Ongania, girato nel cuore di Lecco, Teladome l'America, realizzato dalla giovane regista Mattia Conti. E infine Dio sta dormendo sotto un ciliegio di Federico Videtta. Tutti i film in proiezione saranno sottotitolati in inglese e seguiti da un momento di dibattito. Un'occasione per far conoscere Lecco al di fuori dei nostri confini, commenta l'assessore alla cultura del comune Simona Piazza, segno di un'attività culturale ricca e professionale sul fronte cinematografico, grazie agli autori e ai registi del nostro territorio.